Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre in video seguimi qui su YouTube e su Instagram, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Red Theater, parto subito premesso col dire che l'avevo preordinato mesi fa, visto che era un volume unico, senza leggere la trama né informare niente, quanto mai non l'ho fatto perché è un yaoi e stusione a me fa cagare. Non mi piace per niente, siccome ormai l'ho preso e ho un canale, l'ho letto a malincuore, a un certo punto volevo cavarmi gli occhi e buttarli via, perché comunque ormai dovevo portare un video, perché ormai l'ho detto che lo facevo e con questo almeno ho fatto tutti i generi del mondo possibili, immaginabili, li ho fatti tutti, così contento tutti, se a mai qualcuno mi piace io. Prezzo 6,90 euro, edito da G-pop e chi mai potrebbe non farlo se non G-pop, li fa solo lei praticamente ormai. Tan fosse la Star Comics, però ormai G-pop è andata, si è fiundata su questo genere, non capisco perché, perché a me sembra un porno, cioè parto già col dire che per me è un porno, solo un maggior parte di scene è un porno, quindi già minorenni lasciate perdere. Non so come possa piacere, parla di questo ragazzo che è figlio, un rampollo di una casa di moda, cioè sua madre era una stilista di scappe, ma muore sua madre e c'è il suo stilista personale che se lo faceva tra l'altro, che vuole abbandonare tutto, ma questo figlio che probabilmente sente il bisogno paterno o non vuole essere lasciato solo per la madre, si avvicina a lui e, avete capito cosa vuol fare, si innamora di questo qua, lui usa lui, lui usa quell'altro, lo stilista lo usa più che altro per pubblicizzare le sue scarpe perché lui porta le sue scarpe, però per entrare in questo mondo, il ragazzo questo qua che si chiama Yuri Albakin, le scarpe si chiamano Abalkin, si ecco Yuri Abalkin, si concede a tanti uomini diversi per aumentare il suo stato sociale, per vendere più scarpe, tutto a causa di quello stilista lì che vuole comunque diventare famoso, però a un certo punto si innamora anche lui, la trama in soldone è quella, niente di che, anche se c'era invece di essere Yuri, una maschia o una femmina, era uguale, andava avanti bene, uguale, quindi non capisco che senso abbia, pari io a voi, perché non porta nulla di nuovo, almeno a me, non prendeteva male, ma a me Stodiane non piace per nulla, l'ho preso, cioè non l'ho letto, l'ho semplicemente fatto che non l'ho letto la trama, era un volume unico, l'avevo ordinato, mi sono accorto ieri, praticamente quando l'ho preso, che manga fosse, non mai l'ho letto, però lascia perdere, cioè non lo leggerò mai, buttare via no, perché i libri non si buttano mai via, mi raccomando, perché è sempre cultura, per quanto faccia schifo, a meno per me, però, soprattutto, se un artista qualcuno ci ha messo la passione, non può essere comunque gettato via, così come qualsiasi cosa, quadri, anche video su YouTube, non potete denigrare qualcuno, perché probabilmente ci ha messo la passione e tempo per farlo, quindi comunque deve essere rispettato per questo, però non lo leggerò mai, lo metterò via, prenderà la polvere, ecco, a me non interessa, magari qualcuno piace, a me non è piaciuto per nulla, perché se devo fare così, per me è un porno, io sono etero, quindi, cioè, se guardare un porno, per dire, guardo, normale, guardo etero, visto che la maggior parte delle persone si lamenta tanto, dai fanservice, delle oppai, non capisco perché invece questo genere non si lamenti nessuno, anzi, viene preso come un'opera d'arte definitiva, qualcosa di bellissimo, è più porno questo di tutti gli altri, Isekai che ho visto, o Pini fanservice, perché lì magari sono velato e sono fatto intuire, qua proprio fatto vedere, cioè, non lascia perdermi, volevo cavarmi gli occhi, quello che ho imparato, e che spero che imparate anche voi, la morale della favola è, prima di comprare un manga, leggete su Wikipedia, la trama e i generi, o a massimo andate sui miei video, e guardate se ho fatto qualche video, su quel manga per sapere cosa tarda, io vi ringrazio se il video vi è piaciuto, anche se penso di no, perché mi fa cagare anche a me, questo manga, mettete like, e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati, ci vediamo al prossimo, Grazie.